Zucche di ogni genere e dimensione, tutto ciò che si può creare a base di questo straordinario ortaggio simbolo dell'autunno. Torna a Foiano della Chiana la festa della zucca giunta alla sua sedicesima edizione. Sabato 29 e domenica 30 settembre la cittadina della Val di Chiana vedrà arrivare nei suoi borghi espositori da ogni parte d'Italia. Obiettivo del club Amici della zucca quello di diffondere la cultura e la coltivazione di questo ortaggio nell'ottica di esaltare e conservare le tradizioni della civiltà contadina della Val di Chiana. In mostra non solo le zucche ma anche gli alimenti a base di zucca e un vero e proprio percorso gastronomico dalle frittelle alle torte per arrivare poi a tutte le decorazioni che si possono creare con le diverse forme che la zucca assume nelle tante varietà. Folclore ed animazione per bambini faranno da giusto contorno a questi due giorni di festa ma l'evento centrale sarà ancora una volta la vincente gara giunta alla sua dodicesima edizione di Pesa la zucca in programma nel pomeriggio di domenica a cui parteciperanno produttori di zucche da tutta Italia per contendersi a suon di quintali l'ultimo record ha superato i 600 chilogrammi il titolo valevole per il campionato mondiale della federazione Great Pumpkin Commonwealth.